95 atleti provenienti da 23 paesi, più di 40 gare sulla Terra Rossa per arrivare alle finali di doppio e singolare, in programma sabato 30 e domenica 31 maggio. E il succulento menu proposto dall'edizione 2009 dell'ATP Challenger di Alessandria. Il torneo ATP Challenger di tennis da 45 mila dollari che abbiamo fatto lo scorso anno per la prima volta, sembrava anche questa una sfida incredibile, è venuto bene, quest'anno è alla seconda edizione, abbiamo visto dall'accesso dei giocatori più forti del mondo che è un torneo a cui si vuole bene, per il semplice fatto che il cutoff è 225, cioè il giocatore meno importante del torneo è 225 al mondo, il migliore intorno al centesimo, ci sono tornei della stessa caratura che hanno cutoff da 350-400 posizioni al mondo. Tra gli italiani vi ricordo Stoppini che solo sei mesi fa stava giocando sul campo centrale all'Australian Open contro Gioco, vice oppure anche Marco Cognola che due settimane fa stava giocando contro Vavrinca al Master Series di Madrid. Favoriti credo la wild card Ruben Ramirez Idalgo che è stato anche tra i primi 60 del mondo che settimana scorsa ha fatto già molto bene a Kids World e viene qua sicuramente con l'intenzione di vincere. Il teatro di una settimana di passione per tutti gli amanti del tennis è stato il centro sportivo comunale Innocenzo Barberis. Noi abbiamo pensato di fare un centro sportivo portando all'interno del centro sportivo tipo un wine bar, un locale serale dove si fanno delle feste, un locale country dove si ballano Bali Country, rimane una pizzeria all'aperto dove si fa carne alla brace, ritrovare praticamente un posto dove i ragazzi possono venire e fare sport nello stesso tempo. Abbiamo fatto una piscina, abbiamo creato un ambiente molto bello, abbiamo rifatto completamente il verde, l'irrigazione automatica del centro è stata fatta completamente sui tre ettari del centro sportivo. Abbiamo creato appunto questo circolo per tutta la città, una volta era esclusivamente per i soci, adesso è con gli abbonamenti e con la frequentazione aperta praticamente a tutti. L'Alessandria Challenger 2009 ha regalato al pubblico grande spettacolo e tante emozioni grazie anche alla formula del torneo a cui hanno partecipato campioni già fermati, giovani in ascesa e giocatori di categoria che ambiscono al salto di qualità. L'anno scorso come si diceva era la puntata 0, quest'anno è la puntata 1 per cui quindi il vero inizio diciamo di questa esperienza, di questo Challenger che al di là dell'aspetto tennistico vuole rilanciare veramente proprio lo sport all'interno di questa città e soprattutto nella provincia di Alessandria. Quello che potrebbe sicuramente far migliorare, quindi far crescere sostanzialmente il torneo non è tanto il Montepremi ma soprattutto la data, quindi noi abbiamo una data che è particolare perché chiaramente coincide con il Roland Garros. Spostando questa data può crescere il Montepremi e naturalmente può arricchirsi l'entry list quindi dei giocatori stessi.